Rieccoci su Deadlight ragazzi, continuiamo dopo aver salvato Ben o come cavolo si chiamava Ok, allora vediamo un attimo, abbiamo la pistola Però il problema adesso è... Adesso io sto usando il controller della 360, non so i tasti Ehm, proprio un deficiente Ok, allora con B l'accetta Con Y Ah ok, con Y chiamiamo gli zombie E percorrere? No, no Percorrere non ho capito come Oddio Allora, un attimo eh ragazzi Sì, chiamali pure Ok, 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 ho capito anche il tasto percorrere Perfetto, oddio siamo... Oddio, gli ospedali non è che mi piacciono tanto da visitare Soprattutto in un'invasione di zombie estrema Allora, qua No, allora, eh che cazzo No Ah, con X, ok Eh ragazzi, devo un attimo imparare i tasti perché Avete usato la tastiera per un po' su questo gioco Non... Oh, oh No, 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 no No, no, Randall 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 sei un brutto idiota Randall sei un brutto idiota Ok Eh, il problema è Cioè Come Come diavolo fare Allora, qua è X Ok Una pagina del diario Ok, allora Andiamo Però mi fanno un po' paura quelli zombie Ok, allora Adesso via così Oh, l'ho superato Incredibile Oh, oh Lì c'è uno zombie, ragazzi E qua come... Allora, un attimo solo, eh Allora Ok, con B Oh, oh Arriva lo zombie Oh, che cazzo cadi Randall sei un idiota Randall sei un idiota Oddio Mi stavo per ammazzare Randall Ci siamo già chiariti Sei un po' un idiota Oddio Che cazzo c'hai Randall? Esci dalla mia testa Oddio Randall è un po' impazzito, ragazzi Vede le cose Oddio Se sei pazzo Non è colpa nostra Randall Che cacchio? Ah Abbiamo aumentato il livello di salute Interessante Il problema è Eeeh Allora No, allora Un attimo, ragazzi Oddio No Non comprendo dove andare Perché Qua non si può andare Allora Vediamo un po' ragazzi Ah C'è una scala Ok Allora No No Però Non comprendo Come Come salirci Ok Ok Perfetto Sali Brutto idiota Ok Oddio Quante scale Eeeh Ciao zombie Cadi pure giù Spaccati la testolina Mi sa che ora Ne cadono altre due o tre Come mi Oh Oddio Ma che palle Oddio Ah Attenzione Aia Come cacchio Si tirava fuori la pistola Ragazzi Ah No Ma che deficiente Vabbè Si sono ammazzati Posso dire solo questo Ragazzi Un attimo solo Prima di aprire quella diavolo di porta Opzioni Impostazioni Impostazioni di gioco Comandi Oh Allora Provoca Esamina Salta Attacco Spara Ah Ok Schermata status Non me ne fotte niente Ok Allora vediamo Non mi seleziona la pistola Ah Ok 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 Eh Devo dire che però Con il controller Ancora peggio Vabbè Andiamo Ok Cosa mi può cambiare da qua Oddio Oltre al fatto di spaccare le manine Oddio Dai Vieni zombie Beccati stop Oddio Quasi finito la resistenza Perfetto Non muoiono eh Non muoiono Vieni qui Vieni qui Bello Pam Pam E te Oddio E te vai anche te all'altro mondo Anche se Ok Va bene Ho capito come fare Perfetto Vediamo un po' Oddio No In realtà Non ho capito Affatto come fare Oddio Si può buttare giù Non mi piace come cosa però Vediamo eh Ok 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 La si può buttare giù Il fatto è Il fatto è La c'è una stanza E qua La sopra c'è una stanza Bisogna solo capire come arrivarci E questo Il vero E proprio problema Diciamo Allora E non ci arriva così Allora E che cazzo Randall Sei un brutto idiota A volte Vediamo Forse Ragazzi Ho capito come fare Un po' più indietro Un pochino più indietro Ok Allora Vediamo se è così ragazzi Ok Perfetto Stavo per Buttare giù il cassonetto Come un deficiente Per fortuna Mi son fermato Ok Su Eh Una radio Eh What the Oh mio dio Ragazzi arrivano gli zombie No 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 Via 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 Ok Perfetto Grande Ok Sei stato un genio Te lo devo dire Oggi Oggi In quest'azione Sei stato un genio Un'altra registrazione Dal dottore pazzo Ok Mi hanno capito quindi Che c'è un dottore pazzo E che qua Eh Oddio 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 Ho un attimo di paura Eh Non so voi ma Non è proprio Una cosa che tutti possono Ciao zombie Ciao zombie Salve zombie Vieni qui Oddio Che deficiente Allora Per ricaricare invece Abbiamo anche un fucile a pompa Il problema è Ora Ricaricare Ah Con lb Ok Sì devo dire Controlli Un po' Stupidi Con il controller Veramente Ok Andiamo Eh X Ok Oddio Ciao zombie Ma ciao Ah Mi fate male Mi fate male Cristo Vabbè Dai Mi tirano una botta al piede E io muoio Giustamente Roba da tutti i giorni Cristo Vieni qui Ma dai E crepa Vieni qua Zombie di merda Ciao Mi hanno detto che hai perso la testa Mi dispiace Oh Allora Adesso ragazzi Ho un'idea Ho un'idea molto molto carina Ciao Ciao Oddio È caduto anche l'altro Non è morto Sicuramente Oddio Come cazzo corri te Mi fai paura Allora Vediamo un po' Oddio Non mi sembra tanto sicuro Però come posto all'ospedale No Cristo Oddio Abbiamo finito i colpi Ragazzi Abbiamo finito i colpi Della pistola ovviamente Però E che palle Stai giù Ok Credo di averlo ucciso Perché qua non mi fanno Andare Mi sembra di aver visto una porta Non ne sono completamente sicuro Però Ci proviamo Però è pieno anche di zombie Ok Ecco l'infermeria Ok Ho tutto Via di qua Ok Va bene Sono con te Sono con te Sull'andarmene via All'istante Però mi devi dire la porta Non mi dice la porta Beh cose normali Allora Ah questa Aprile dai muoviti Ce ne hanno Oh Ehi Ciao La carta di identità Beh È bello Rubare le carte di identità In questo modo Via Dalle valle Oddio Oddio Ho un po' di paura Diciamo In questo Cioè Si rischia la vita Ogni Ogni Tresco Oddio Che cazzo L'orologio del dottore Che ha abbracciato L'immortalità Bello Minchia Però qua non Ammazzo io Ok Oddio Via di qua Via di qua No No Non 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 tutti addosso Non tutti Per una botta Cristo Vabbè Mi mangiano tutti Adesso Io per una Cristo di botta Devo morire Come un deficiente Fondamentalmente Questo che mi hanno Sempre detto In sto gioco Cioè Detto Insegnato Ok Allora Via di qui Subito Adesso che sappiamo Anche come si fa Ok Vai su Ok Allora Vediamo se Devo riprendere Quell'orologio Non credo Però Infatti Allora Giù Scendiamo Via 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 Ok Via 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 No Sedia di merda Sedia di merda Sedia di merda Oddio Sì Eh Fai bene Io buono Che deficiente Che sei Randall Te l'hanno mai detto Credo di sì Ok 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 se c'è gas in it i promise you i can fly this thing bingo what did i tell you buddy if they've taken her to the safe point from the air we'll be able to find her ben are you okay i'm a little busy yeah i'm sad randy i miss my wife i want to be with her again buddy i'm tired of this job think at least she didn't have to go through all of this we're like old men aren't we all our talk is filled with the dead all the people we loved not around anymore we're alone look grantee the safe point you should be able to find them from there at least i brought you this far no 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 si è trasformato ma che sfiga io devo dire solo una cosa ragazzi rendal è l'uomo più sfidato di tutti i videogiochi cioè trovi un elicottero oddio che cazzo ok comunque trovi un fottuto elicottero ripeto la parola elicottero e cosa succede si trasforma in zombie il pilota no non è non è assolutamente giuro cioè nel senso comunque cos'è successo rendal te i tuoi sogni da pazzo oddio ha un po' i sogni da pazzo però oddio va bene ragazzi ok cimitero militare cimitero oh mio dio oddio siamo in un cimitero ragazzi va bene ragazzi per questo episodio è tutto se il video vi è piaciuto mettete mi piace lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale alla prossima